Su proposta del ministro per la protezione civile Nello Musumeci, il governo ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro, avrà la durata di sei mesi. Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli, ha detto Musumeci, della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300%. Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell'Unione Europea. Con lo stato di emergenza si potranno realizzare procedure e azioni più veloci per offrire ai migranti soluzioni di accoglienza in tempi brevi con adeguati standard. Saranno coinvolte la protezione civile e la croce rossa italiana con il loro bagaglio di esperienze e dotazioni. Allo stesso tempo si potranno aumentare e rafforzare le strutture finalizzate al rimpatrio dei non aventi diritto alla permanenza in Italia, potenziando le attività di identificazione ed espulsione. La dichiarazione dello stato di emergenza consente di assicurare risposte più efficaci e tempestive sul piano della gestione dei migranti e della loro sistemazione sul territorio nazionale. Abbiamo deciso lo stato di emergenza sull'immigrazione, ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi.